Qual è la riflessione di valore? In questo territorio vadano fortemente rivisitate e ripensate. Noi veniamo da una stagione che è quella dell'economia della conoscenza, in cui abbiamo affidato all'economia della conoscenza, quindi a quei processi di creazione del valore fortemente basati sugli intangibili, sulla tecnologia, sull'innovazione, grandi aspettative e speranze di crescita e di crescita inclusiva. Quello che noi oggi sappiamo è che molti territori invece sono stati esclusi perché questi processi di creazione del valore basati sull'economia della conoscenza hanno portato delle concentrazioni di opportunità e di ricchezza in pochissimi poli e hanno lasciato altri territori ai margini di questa distribuzione del valore della conoscenza e dell'innovazione. Allora io credo che la chiave sia quella di, con di fronte una chiara immagine delle risorse, delle potenzialità del territorio, in questo caso dell'area metropolitana, di capire quali sono i processi di creazione del valore a cui ci si può rivolgere, quali sono gli attori, le reti imprenditoriali a cui ci si può rivolgere in certi contesti appunto per ricreare catene del valore che non siano solo capaci di generare ricchezza, ma che siano anche capaci di farlo in maniera inclusiva e con una forte intrinseca capacità di redistribuzione e di coinvolgimento di territori e di segmenti della società. Allora io ho l'impressione che il modello che abbiamo chiamato science based, cioè quello dei parchi scientifici, quelli degli incubatori, che ha naturalmente un suo valore ma non sia più sufficiente a riportare alcuni pezzi del nostro territorio all'interno del perimetro delle politiche industriali, all'interno delle politiche di crescita e che invece nel momento in cui si comincia a pensare di riportare nel perimetro questi territori e questi pezzi di società si debba guardare lucidamente al fatto che ci sono pezzi del nostro territorio in cui le reti imprenditoriali che rimangono sono fondamentalmente due. Sono le reti del saper fare, quindi penso all'artigianato, penso a certe forme di creatività, penso naturalmente al piccolo commercio da un lato e le reti dell'imprenditorialità sociale dall'altro. Allora una politica industriale deve, io credo, ripartire da queste reti e scommettere sulla capacità di riportare dei pezzi di queste reti a produrre valore economico e sociale insieme e quindi scommettere anche sulla trasformazione dei modelli imprenditoriali a cui stiamo assistendo, che era già in corso naturalmente prima della crisi e che è fortemente accelerato nel corso della crisi e appena dopo la crisi. Io penso che ci siano dei segmenti peraltro molto interessanti rispetto alle caratteristiche dell'area di cui stiamo parlando. Penso naturalmente ai modelli di assistenza e cura, penso al turismo di prossimità, penso alla produzione e distribuzione del cibo nell'ultimo miglio, penso a nuovi modelli di abitare, di vivere, di occupare zone che invece non erano particolarmente attrattive dal punto di vista dell'abitare. Ecco, in questi modelli non ci saranno, diciamo, i modelli di business sono completamente cambiati e non ci saranno più traiettorie di sviluppo di business che non siano sociali, che non abbiano un fortissimo radicamento nelle comunità. E allora io credo che includere l'imprenditorialità sociale, le reti del saper fare, le reti dell'imprenditorialità sociale nel perimetro delle politiche di sviluppo, delle politiche industriali, sia la chiave di successo per poter ricostruire delle credibili politiche di ricostruzione di valore ben distribuito sul territorio e anche naturalmente di farlo in maniera inclusiva, di farlo in un modo che non sia più lacerante rispetto alla società, come sono state invece certe altre forme di azione politica. Per fare questo naturalmente bisogna anche un po' cambiare la prospettiva degli strumenti a cui si guarda. Credo che per l'area metropolitana torinese diciamo sia definitivamente venuto il tempo nel campo delle politiche industriali di chiudere il Novecento e quindi di smettere di pensare che gli unici strumenti disponibili siano gli incentivi, i bonus, i voucher, peggio ancora i finanziamenti a fondo perduto, i finanziamenti agevolati, ma bisogna cominciare a rivolgersi a un tipo di strumenti che riconoscano la non linearità dei processi, la complessità dei processi, il ruolo centrale dei fattori abilitanti e il fatto che probabilmente dobbiamo cominciare a cambiare un po' l'unità d'analisi, l'unità elementare d'azione, che non è più la singola impresa dispersa dal territorio, ma bisogna cominciare a scommettere su dei luoghi ad elevata densità di innovazione, sperabilmente di innovazione sociale, quindi degli ecosistemi dentro cui si creino forme di aggregazione, forme di apprendimento collettivo e forme naturalmente di condivisione di infrastrutture che in qualche modo abilitino dei processi dal basso, dei processi trasformativi, dei processi in cui il modello politico sia un modello generativo, e che non sia un modello in cui ci si aspetta che sia direttamente il denaro pubblico direttamente assegnato al singolo operatore economico a generare quei salti di paradigma e quelle forme di trasformazione dei modelli industriali, di creazione del valore di cui abbiamo bisogno per affrontare una... perché l'area metropolitana affronti la sua trasformazione in una situazione così complessa, così variabile, così incerta, come quella che ci aspetta nei prossimi anni.